Musica Eh ma questi computer di oggi che con la linea internet che non mi funzionano mai Io devo scrivere a tutti i bambini, io sto in ritardo, sto in ritardo, ma come faccio adesso? Papa Natale, ma che sta succedendo? Io per il 25 devo rispondere a tutti i bambini che mi hanno, devo regalare le cose, devo rispondere No, noi riusciamo a fare tutto, noi abbiamo aiutanti, i nostri elfi stanno preparando Vedi hanno mandato un'altra letterina Ancora? Sì E chi sarà mai? E chi ci sta su questa letterina? Vediamo, vediamo, vediamo Ha scritto questa lettera Desiree Che ha due anni E ha il fratellino che si chiama Matteo Quattro mesi, piccolino piccolino E piccolino piccolino Ovviamente noi salutiamo il papà Fabio, ciao Fabio e la mamma Natascia, ciao Natascia Regina delle Nevi, che pensi che questa bambina abbia fatta la brava o un po' la monella? E' brava, è bravissimo, allora quale regalo facciamo a questa bambina? Allora, io pesco Vediamo nella lettera, che cosa ha lei? Allora, aspetta, aspetta, guarda qui ci sono una lista di regali disponibili Allora, il regalo disponibile dice che noi ci regaleremo una Barbie in bicicletta Ah, ma che bella bamboletta Ti piace? Sì, molto bella E' un passeggino di ciccio bello Uh, facciamo completo? Eh, però mi è venuta all'orecchio Mi è venuta all'orecchio Che cosa ti è venuta? Non lo volevo dire prima Che la mamma ha detto che Natascia è un po' monella Amor, mamma si chiama Natascia E lui si chiama Desiree, allora chi fa monella? E' Natascia o' Desiree? Eh, Desiree si fa la monella E la mamma Natascia ha detto che fa la monella Desiree Ah, hai capito? E allora deve fare un po' la brava, deve ascoltare la mamma Natascia e deve ascoltare il papà Fabio Affinché gli possiamo portare questi regali E quando glieli porteremo? Eh, 25 sotto a Oh, il 24 a notte Prima che scade il 25 Ah, 24 Eh, e dove li porteremo? Però deve promettere Che non deve fare più la monella Sì, è la prima cosa E poi dove li porteremo questi? Dove ce li metteremo? Sotto quel bell'albero Lei ci trova tutti i regali Perché? Sull'albero cosa ci sta? Eh, ma perché le paline di Natale Rende un albero speciale E sono pieni di colori Rossi, verdi, gianni e uori Stanno appesi Solana Cocciandolare Dondolare E senza mai cadere giù Ma come fanno? Lo sai tu? Eh, chi lo sa, chi lo sa Però noi metteremo nel sacco Che sicuramente non ci sarà un cremino rosso Baba Natale è questo tuo sacco rosso Che ce l'hai nel sacco rosso? Eh, nemmeno un gatto Nemmeno un gatto Però ci sarà il regalo per Desiree Quindi noi salutiamo Desiree Ciao Desiree Aspettaci, cosa ci dovrà preparare per il 24? Eh, Desiree, vedi che Baba Natale Pure un pomonello come tu E piace i biscottini E un po' di latte Non dimentica, preparati Perché il 24 scenderemo dal camino Mi farò piccino piccino E all'improvviso Oh 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 Buon Natale Con nostro augurio speciale Stiamo arrivando Aspettatevi We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year